ciao a tutti come avete visto l'anteprima parliamo della testina che uso e questa qua è una testina polonatrice e va bene io vi faccio vedere adesso come smonto il cambio il filo perché è facilissimo praticamente queste testine qua ho modificato i di buchino ingranditi per mettere il filo più grande mettendo il filo su queste testine qua rispetto a quelle batte vai queste metti due fili doppi sono fili doppi quelli grossi da 4 mm in più e a me mi fa quasi un serbato di benzina mi dura così tanto il filo praticamente perché metti il filo di rigido e lavora bene poi dopo vi faccio vedere il lavoro che esce va bene adesso andiamo con la procedura di di cambio filo vi faccio vedere che ci vuole un attimo a cambiarlo perché c'è una brugola qua sotto e vado a togliere la brugola e come prima cosa viene a girare la testina di sotto sopra e poi ci vuole una brugola una chiave a brugola andiamo a smontare allora a togliere la vita bisogna basta girare la vita all'incontrario perché se giriamo nel senso di delle viti normali il senso di rotazione anti orario allora si tolgono che facilissimo a togliere si fa presto a togliere togliamo le il filo togliamo tutto lì mi aiuto con un cutter a tagliare a tagliare tutti sti ingrovigliamenti che ci sono abbiamo abbiamo tolto l'erba nelle fave qui c'era la raffia e questo è il residuo vedete si fa velocissimo adesso prendo il filo e lo inseriamo me l'ero già preparato prima allora inseriamo il filo così è semplicissimo questo qua non c'è bisogno di fare di fare lavori strani più complicato e far passare il secondo secondo il terzo e il quarto un po di più però dovrebbe entrare entrare un po più con con più fatica e quarto ma ci siamo allora bisogna fare così senza cosa così sforza un po questo è un po grosso questo si guardano che siano giusti poi si monta si monta la vite stringiamo la vite ma adesso andiamo a provare la macchina adesso vado a inserire la a mettere la benzina facciamo anche si attacco il tappo si danno due pompate qua si deve mettere la levetta spostare la levetta controllare che lo starter lo stop sia giù perché se è su non parte è una sicura adesso proviamo ho spostato la levetta abbiamo spostato la leva così adesso come materiale occorrente ci mettiamo la maschera e questa serve contro i fumi della discarico della benzina e contro il corso contro le polveri prendiamo a tagliare questo qua ci mettiamo un brago questo è un brago universale ci mettiamo la visiera poi questa una specie di creazione mia non so se altri lo fanno questo serve per portarsi meno e le pantaloni mettiamo sta cintura qua anche questa è autoprodotta questa è una specie di creazione e qui abbiamo ci abbiamo le cuffie siamo pronti in questa maniera siamo pronti per la tagliare la roba mancano i guanti adesso mi riprende in tasca ma qui abbiamo i guanti siamo tutti siamo pronti partiamo la roba mancano 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.